allora sono qui in in 3d experience e comunque è come se fossi un bambino con tanti giochi ecco e sto guardando nel senso che sto guardando e ho cliccato qui su network devo ancora completare questa ok adesso piano piano completerò sono sempre in profilo e però ho cliccato qui e sono in network e qui ho cominciato a vedere i contatti dunque ho cominciato me li mette in automatico mi mette in automatico i miei allunni che si sono già iscritti dunque vedo già chi si è iscritto ok dunque sicuramente lui mi dice le persone che tu conosci io conosco tutti dunque faccio qui aggiungo contatto e dunque dovrei invitare a no facciamo così proviamo siccome questi io li conosco admin to your network dunque io faccio invita ok dunque faccio invita invito questo qua non so ma sarà il mio sì perché di mazzano dunque adesso comunque di voi ragazzi mettete la foto con lì così vi conosco anche lui che ha messo questo qua beh comunque invitiamolo lo stesso ok invitiamo invito sì 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 lui è della quarta ok invito questo ragazzo quarta m ok perfetto invito e anche questo della quarta m e lo invito ok perfetto dunque invito li ho invitati tutti quelli dunque vedo già siccome gli ho iscritti io vedo già persone mi già lui suggerisce le persone che conosco dunque ho già invitato scusate però è un work in progress non la conosco e però oggettivamente fa paura questa piattaforma qui oggettivamente siamo siamo veramente mi sembra una piattaforma ideata per una quarantena proprio per una quarantena è veramente bella ok sono curioso di andare avanti e di vedere cosa le cose nuove ok ci vediamo la prossima arrivederci